Cambio della guardia alla testa del Ministero dell'Interno francese tra Bruno Leroux e Mathias Fecl. Leroux si è dimesso ieri dopo le rivelazioni sugli impieghi parlamentari di cui hanno goduto le sue figlie, sebbene minorenni. Leroux, considerato un fedelissimo del capo dello Stato Hollande, ha detto di non avere violato alcuna legge, ma di volersi lo stesso dimettere per non creare problemi al suo partito. Le due figlie di Leroux avrebbero cominciato a lavorare per il padre quando erano ancora al liceo, con contratti a termine durante le vacanze scolastiche, come ha confermato lo stesso ex ministro. In particolare, in due periodi le figlie avrebbero occupato un posto di assistente parlamentare, una mentre frequentava un corso preparatorio per l'università, l'altra mentre facevano stagi in Belgio.